salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video allora ragazzi poco fa mi è arrivata la conferma di già ciò che mi diceva un mio amico all'incirca due mesi fa allora ragazzi la notizia è di quelle importanti e quindi va presa sempre con le pinze mi raccomando durante la prossima assemblea degli azionisti che dovrebbe avvenire intorno al 27 di maggio su per giù giorno più giorno meno la juventus dovrebbe anche annunciare un nuovo aumento di capitale deliberato dalla exor che è una holding ricordiamola a tutti che controlla la juventus ha o il 63,6 o il 66,3 per cento delle azioni della juventus per il resto sono vari azionisti che detengono le quotazioni della nostra squadra della quale proprietario e presidente chairman è john elkan della quale delibererà nelle casse della società bianconera una cifra che va dai 350 barra 450 milioni di euro quindi c'è questo sbalzo di 100 milioni di euro però minimo 350 massimo 450 e qui ragazzi è qui e qui vi invito a fare una riflessione vi invito a fare una riflessione le squadre della superlega europea no solo per la partecipazione quanto avrebbero preso proprio una cifra che andava dai 350 ai 450 quindi ragazzi se ben vedete se ben vedete se ben leggete tra le righe tutto torna tutto torna ragazzi era una notizia che mi aveva comunicato un amico all'incirca due mesi fa e che non ho voluto riportare proprio perché volevo maggiori garanzie garanzie che oggi mi sono arrivate e quindi è confermata la notizia perché ci sono sbariate fonti che riportano tutti la stessa cosa e quando sbariate le fonti riportano tutta la stessa cosa la notizia è veridiera ecco perché non ve l'ho detto due mesi fa quindi ragazzi assemblea delle azionisti il 27 maggio all'incirca dove la juventus dovrebbe comunicare anche il nuovo aumento di capitale la ricapitalizzazione delle casse finanziarie per una cifra che va dai 350 ai 450 milioni di euro giustamente ragazzi anche per combattere la crisi covid la juventus già fece questa manovra tre anni fa se non erro e entrano nelle casse 299 milioni di euro poi purtroppo è subentrata questa pandemia questo virus maledetto che ha un po' rimugignato le casse ma soprattutto di tutti i club non solo dei nostri anche l'inter in effetti sta provando a fare un finanziamento con un fondo americano tutto qui detto questo ragazzi vi volevo comunicare questa notizia estremamente importante da prendere sempre con le pinze vi raccomando ragazzi detto questo io vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine forza juventus la juventus non muore letteralmente mai